Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Salve amici, se vi ricordate nel precedente incontro abbiamo cercato di incominciare a delineare quello che è stato l'orientamento della Chiesa davanti all'ellenismo e abbiamo specificato anche che l'ellenismo rappresenta molteplici correnti di pensiero evidentemente sono tutte correnti di pensiero certamente precedenti, la venuta di Cristo abbiamo visto che si presenta per la Chiesa anche un particolare problema che è il problema dell'agnosi che possiamo anche indicare come il problema della conoscenza, è un tema profondamente filosofico che presenta un interrogativo, cioè fin dove è possibile per l'uomo, quindi per l'uomo come umanità, cercare di possedere la conoscenza delle realtà circostanti e in qualche modo anche delle realtà superiori alle situazioni diciamo terrene, questo era il problema dell'agnosi, cioè il problema della conoscenza e lo stesso San Paolo aveva trovato delle difficoltà perché chi era legato al mondo dell'ellenismo evidentemente sosteneva delle dottrine che comunque non erano in sintonia con la dottrina cattolica e quindi San Paolo cercherà di contrapporre quindi la dottrina cattolica però in una maniera capace di comprendere anche l'itinerario di vita delle persone. Davanti al problema dei lagnosi i diversi autori del tempo, i diversi studiosi, i diversi esponenti delle correnti religiose, assumeranno delle posizioni diverse. Abbiamo intanto le correnti vere e proprie dell'ognosticismo. Queste correnti identificano la fede con l'agnosi, cioè in altri termini dire fede o dire per queste correnti di pensiero. Altro non significa se non una stessa ricerca della verità, una stessa ricerca della conoscenza. Ma poi il problema è che bisogna vedere quali sono le basi di questa ricerca, quali sono i riferimenti di questa ricerca, qual è il finalismo di questa ricerca. Esiste poi una corrente di pensiero che è stata sostenuta soprattutto da Tertuliano, un esponente cristiano, un avvocato tra l'altro. Gli anni di Tertuliano vanno dal 160 circa al 220 circa. E Tertuliano è molto rigido, cioè lui dice tra l'agnosi e la fede esiste una separazione assoluta. Quindi lui non ammette possibilità di punti d'incontro. Esiste poi una terza corrente di pensiero che fa riferimento alla persona e all'insegnamento anche di San Giustino, San Giustino martire, morirà a Roma. Gli anni di San Giustino vanno dal 100 circa, 100 dopo Cristo, al 165 circa. San Giustino sottolinea intanto un primo punto che considera una premessa fondamentale. Cioè lui dice che il cristianesimo non è una religione antirazionale. Vuol dire che la dottrina cristiana non è ostile alla ragione, quindi non è ostile a tutte le attività di pensiero che possono essere sviluppate. Piuttosto il cristianesimo è da considerare super razionale. Cioè significa che la dottrina cristiana non è basata sulla mera razionalità, cioè sulla semplice razionalità, ma va al di sopra della razionalità perché la fede conduce chiaramente a un affidamento in Cristo, figlio di Dio. e San Giustino sottolinea a questo punto che proprio nella persona di Cristo convergono, cioè si ritrovano, i piani ideali della fede e della ragione. Quindi fede e ragione si ritrovano in Cristo. San Giustino tra l'altro dimostra anche una comunque sensibilità verso gli ambienti non cristiani perché farà una affermazione che ancora oggi è di particolare attualità. Cioè San Giustino afferma che negli ambienti più diversi, anche negli ambienti che non sono stati ancora evangelizzati, per capirci, esistono dei seminaverbi, cioè esistono dei semi, degli elementi, diciamo, infieri che derivano direttamente dal verbo per eccellenza, cioè dalla parola di Dio. Che vuole dire San Giustino con la dottrina del seminaverbi? Vuol dire che siccome Dio è presente ovunque, perché è padre e creatore, ovviamente in ogni realtà del mondo esistono molteplici segni della sua presenza, della sua bontà e della sua misericordia. Quindi se da una parte la Chiesa si sviluppa attraverso i processi di evangelizzazione, contemporaneamente bisogna anche tener conto che nel mondo pagano esistono elementi che richiamano alla presenza di Dio. Esisterà poi una quarta corrente di pensiero con riferimento al problema dell'agnosi che è da collegare a Clemente di Alessandria, Alessandria d'Egitto. Gli anni di Clemente vanno dal 150 circa al 215 circa dopo Cristo. Clemente di Alessandria può essere definito il maestro dell'ellenismo cristiano perché lui sostiene una specie diciamo di alleanza, tanto per capirci, tra cristianesimo e mondo greco e la filosofia greca, le idee che provengono dal mondo greco. Esiste, secondo Clemente di Alessandria, una sapienza che è stata all'inizio del mondo donata ai saggi. Questa sapienza è poi decaduta per le tante criticità legate al comportamento umano, ma poi questa sapienza è stata restaurata con Cristo. Questa linea di pensiero di Clemente di Alessandria si può anche riassumere in una affermazione. E questa affermazione dice che la grazia, quindi la grazia di Dio stiamo parlando, non distrugge la natura. Che cosa vuol dire Clemente di Alessandria con l'affermazione che la grazia non distrugge la natura? Vuol dire che a ogni essere umano è data la possibilità di esprimere tutti quei doni che lui ha ricevuto in maniera gratuita, spontanea, fin dalla nascita. E quindi tutti questi doni umani, tutte queste dimensioni umane, giustamente devono essere valorizzate e tra queste dimensioni umane, tra queste capacità umane esiste anche la ragione, la razionalità che deriva dalla intelligenza umana. Ecco, Clemente di Alessandria, davanti a questa capacità di ogni persona di sviluppare un cammino di conoscenza, lui sottolineerà che in questo cammino di conoscenza opera anche la grazia. Quindi, questa sarebbe la conclusione, non esiste una separazione tra la grazia di Dio da una parte e l'attività razionale dell'uomo, ma la grazia si inserisce, la grazia di Dio si inserisce nella razionalità umana perché ogni essere umano è creatura di Dio, cioè proviene da Dio. E in questa maniera Clemente di Alessandria appunto cercherà di evitare delle contrapposizioni dure e di evitare ovviamente conflitti. Bene, vedremo la prossima volta come si svilupperà l'ognosticismo e ovviamente quali saranno i protagonisti cristiani che risponderanno a determinate dottrine gnostiche. Quindi, arrivederci al prossimo incontro. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattodici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org